Buonasera a tutti e bentrovati a questo ultimo incontro che Stati Generali dell'Innovazione per lo Digital Weeks dedica al tema del Digicomp e in particolar modo del Digicomp Edu, il quadro di riferimento europeo per le competenze digitali dei docenti o cosiddetti educatori digitali. A questo panel si sono uniti la dottoressa Sandra Toroia, il dottor Sergio Farruggia e la professoressa Monica Sebillo che ringrazio anticipatamente per poter descrivere quello che è lo strumento dedicato alle competenze digitali dei soggetti che si pongono a tutti i livelli di istruzione come formatori ed educatori a supporto dello sviluppo in ambito pedagogico delle competenze digitali, quindi in questo contesto del Digicomp. Per cui invito i nostri relatori a presentarsi man mano che gli do la parola per poter far comprendere a chi ci ascolta in modo appunto prospettico funzionale il loro ruolo nell'ambito di questo contesto. Lascio la parola a dottoressa Sandra Toroia per una panoramica generale su questo interessantissimo Digicomp Edu. Grazie. Buonasera, bentrovati. Io condivido lo schermo perché avevo piacere di farvi vedere direttamente mettendoci le mani su gli strumenti di cui parlerò. Io sono un'insegnante e mi occupo però in particolare da diversi anni della formazione dei docenti all'interno e quindi legata proprio alle competenze digitali e quindi ho svolto attività di supporto ricerca legata al framework Digicomp Edu e allo strumento che è stato predisposto per quanto concerne l'autovalutazione delle competenze digitali che è appunto lo strumento Selfie for Teachers, strettamente connesso a questo framework. Quella che vi presenterò è la versione italiana del tool che è stata messa a disposizione, è stata tradotta a cura del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Quindi questo strumento, questo quadro di riferimento individua 22 competenze specifiche e le organizza in sei aree di competenza. Queste aree di competenza a loro volta possono essere inserite in tre macro aree. Quindi abbiamo le competenze professionali del docente e del formatore che riguardano le competenze e l'area relativa a come si utilizzano le tecnologie per la comunicazione organizzativa, la collaborazione professionale. Qui andiamo dal, chiamiamolo semplice, registro elettronico all'utilizzare per esempio per la crescita professionale degli ambienti per l'aggiornamento. Quindi degli ambienti, adesso facendo riferimento all'Italia, al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, noi abbiamo a disposizione la piattaforma Futura, che è una piattaforma all'interno della quale chi insegna nella scuola italiana trova a disposizione una ricchissima offerta di corsi gratuiti, accessibili sul tema della transizione digitale, delle metodologie legate all'integrazione significativa di strumenti e ambienti digitali nella pratica didattica. Poi abbiamo la seconda area, che è quella delle competenze didattiche del docente formatore e all'interno di quest'area troviamo le competenze legate alla nostra capacità come formatori, come docenti di selezionare delle risorse digitali che rispondano a specifiche esigenze delle nostre studenti, oppure le competenze legate alla creazione e alla modifica delle risorse digitali e a questo si abbina un tema che non è spesso considerato, ovvero il rispetto del copyright. Quindi quando io vado a prendere e modificare delle risorse, devo avere delle competenze specifiche nel riconoscere le licenze o quando vado a rilasciare i miei lavori e a condividerlo, devo esplicitare con quale licenza d'uso io concedo appunto l'impiego di questo prodotto del mio ingegno. Oppure altra area di interesse è quella delle pratiche di insegnamento e apprendimento in cui noi guidiamo attraverso l'uso degli strumenti degli ambienti digitali che apprende a poter vivere l'esperienza dell'apprendimento collaborativo o di un apprendimento personalizzato che può risultare autoregolato. Pensiamo adesso allo sviluppo crescente delle piattaforme di learning management system dove troviamo l'elemento arricchente dell'intelligenza artificiale e questo va a modificare l'insegnamento e l'apprendimento così come va a modificare anche l'esperienza della valutazione che è un'altra area del DigComp. Infatti è interessante che nel DigComp Edu noi troviamo nell'area valutazione e apprendimento la competenza 4.2, l'analisi dei dati del processo di apprendimento. Immaginiamo quanti dati possono essere raccolti in un LMS arricchito dall'intelligenza artificiale, quindi la possibilità sempre con l'intelligenza artificiale di dare un feedback, un riscontro immediato sull'apprendimento e quindi migliorare la pianificazione didattica. Poi abbiamo l'area 5 che è quella dell'accessibilità, dell'inclusione, della personalizzazione, del coinvolgere i soggetti in un'esperienza di apprendimento che sia attiva. E poi l'ultima area che è probabilmente la mia area più cara che è quella che coincide con le 5 aree del DigComp. Infatti è l'area in cui ci si focalizza sulle competenze dello studente, il ruolo del facilitatore, del docente, del formatore e favorire le competenze digitali degli studenti. Quindi queste 5 competenze che troviamo in questa area in realtà coincidono con le 5 aree del DigComp. Accanto a questa panoramica abbiamo anche differenziati livelli di padronanza che sono strutturati sul modello della certificazione delle lingue straniere, quindi guardano al modello del quadro comune di riferimento delle lingue, quindi noi abbiamo ben 6 livelli di padronanza. In questi 6 livelli di padronanza si considera il riferimento anche alla tassonomia di Bloom, per cui abbiamo dei docenti che utilizzano soltanto, conoscono le tecnologie, gli strumenti, le metodologie, fino ad arrivare invece ai docenti che proprio guardando la tassonomia di Bloom riescono a innovare, a proporre delle pratiche innovative che naturalmente sono state definite passando da una riflessione, da una valutazione precedente e che però ha portato proprio anche alla rottura magari di alcuni schemi. Per capire come e dove ci collochiamo secondo questi livelli di padronanza possiamo utilizzare il Selfie for Teachers. Il Selfie for Teachers, è lo strumento di autoriflessione che è accessibile sulla piattaforma della Commissione europea, vedete, legato al Ditch Compedu, si arriva a Selfie for Teachers, ci si può registrare gratuitamente, è necessario crearsi un apposito account e all'interno di questo ambiente io posso iniziare una pratica di riflessione, una pratica di riflessione che adesso può essere legata a due tipi di target. Il primo tipo di target è il docente della scuola del primo e del secondo ciclo e il secondo tipo di target invece è il docente, l'educatore che si occupa della cura della prima infanzia. Quindi è interessante vedere che c'è stato un allargamento anche in questo senso per cui anche chi si prende cura della fascia dei più piccoli non può non avere questo bagaglio, questo corredo di competenze. Altro aspetto interessante è che è possibile strutturare una autoriflessione di gruppo, quindi ci si può appunto dotare di un codice che va condiviso con i propri colleghi. Adesso nelle scuole noi abbiamo dei gruppi, il team dell'innovazione digitale coordinato dall'animatore digitale che può avviare questo tipo di riflessione di gruppo e che serve a fare un bilancio delle competenze e delle professionalità presenti all'interno della scuola proprio guardando al DigCompedu. Alla fine di questa autoriflessione di gruppo, così come nell'autoriflessione individuale, si ottiene un feedback a questo percorso. Questo feedback ci inquadra in uno dei sei livelli di padronanza del DigCompedu non solo. Ci viene fornita anche un'indicazione su come andare a migliorare il livello di padronanza che abbiamo rilevato. Ora, non vorrei togliere ulteriore spazio agli altri speaker e quindi... Grazie, grazie Sandra e grazie per la tua panoramica. Ti dirò che seppur il DigCompedu è un po' più datato rispetto al DigCompedu e 2 di cui abbiamo appunto anche parlato in un altro evento, lo ritengo veramente virtuoso è un ottimo strumento che può supportare gli educatori cosiddetti digitali oggi perché si parla tanto della possibilità di implementare nuovi strumenti all'interno delle classi nella gestione proprio della formazione dei ragazzi, degli alunni e sicuramente a valle di quello che abbiamo vissuto con la DAD sotto pandemia Covid-19, la consapevolezza e l'uso di determinati strumenti per la didattica a distanza e per superare il digital divide oggi è di fondamentale importanza. Quindi ti ringraziamo e proveremo appunto a realizzare un altro evento per approfondire ulteriormente in futuro, ma vorrei passare la parola al nostro vicepresidente Presidente di Stati Generali Innovazione Sergio Farruggia per chiedergli come effettivamente lo sviluppo di competenze digitali per gli educatori può essere rilevante nell'ambito dell'informazione geografica, che è un'informazione, come dire, si parla di informazione geografica ma è un tema di grande importanza che ci impatta nella vita di tutti i giorni come abbiamo visto nell'evento sul Digicomp 2.2, quindi sul tema delle smart city, delle applicazioni di navigazione e tutti gli altri compagni digitali che usiamo ogni giorno. Grazie. Grazie Valentina. Come ho accennato nel webinar precedente, Stati Generali dell'Innovazione si interessa le competenze digitali, in particolare quelle geografiche rispetto ai bisogni di competenze tecnico-scientifiche prevalentemente, o quantomeno finora, attraverso la collaborazione con le associazioni di settore. Questa sera abbiamo appunto una rappresentante autorevole. Però ecco, l'argomento trattato in questo webinar, in particolare rivolto al mondo degli insegnanti o comunque degli operatori nel campo della formazione e dell'utilizzazione, mi permette di evidenziare che nell'ambito appunto della cornice geografica delle competenze abbiamo una significativa presenza di competenze, di expertise in ambito, diciamo, in un contesto umanistico. Questa è una peculiarità nostra italiana, noi abbiamo il mondo geografico tecnico, diciamo, i topografi, i geometri, ecco, per dare un quadro di estrazione ingegneristica, ma abbiamo anche il mondo dei geografi che nel nostro ordinamento per tradizione fa capo alla facoltà di lettere e filosofia, ma giustamente, diciamo, ha una sua ragione storica. Diversamente, ad esempio, nel mondo agrosassone, dove, diciamo, la professione del geografo è più analoga a quella, diciamo, del nostro geologo, per esempio. Tanto per intenderci, proprio, tagliato, diciamo, argomento tagliato con l'accetta. Ora, però, queste competenze, parlando appunto di Digicob Edu, sono attive nel mondo del notante vero che abbiamo un'associazione geografia italiana, abbiamo un'associazione degli insegnanti geografi italiana, quindi con una forte rappresentanza degli insegnanti. Ora, in questo contesto, stati generali dell'innovazione, si prefigge da diversi anni di voler contribuire all'unificazione dei due mondi, appunto, tecnico-scientifico e umanistico, nell'ambito dell'ICT in generale e della geografia, essendo consapevoli che è una dicotomia che ormai non ha più ragione di essere, anzi, le evoluzioni che prevediamo, che stiamo vivendo, che vediamo, dal concetto di Smart City, l'introduzione della blockchain, l'introduzione del gemello, del concetto di gemello digitale, e questo è applicato al luogo, alla città, al territorio, al mondo intero. Non ultimo, sembrava fantascienza, sembra forse ancora, ma è dietro l'ancolo. Il, diciamo, chiamarlo, lo possiamo chiamare, diciamo, tecnologicamente il web 3.0, ma se vogliamo essere evocativi è il web tridimensionale, è il metaverso. Ecco, proprio nello scorso mese di marcio l'Europa ha avvarato un consorzio che opererà, che si svilupperà, per lo sviluppo appunto del local digital twin barra cityverso. Quindi dobbiamo prepararci, dobbiamo prepararci con competenze adeguate, sia di tipo tecnico, direi soprattutto anche di tipo umanistico, per affrontare sia le opportunità, sia tutti i rischi, le preoccupazioni che questo comporta. Nel webinar precedente ho citato il modello della gig economy, appunto, diciamo, evocando tutti i rischi, diciamo, gli scombossolamenti del mondo del lavoro che sta creando, ma accennando a magari possibili applicazioni del medesimo modello adeguato a bisogni di tipo sociale per il bene pubblico. Ecco, però, per fare questo dobbiamo acquisire proprio competenze in un quadro, quello descritto appunto da Sandra, sai bene, precedente. E io qui spero, penso di aver dato anche degli input per, diciamo, gli interventi successivi. Assolutamente, Sergio, sicuramente spunti interessanti. Mi fai riflettere dal punto di vista delle criticità barra rischi, oltre che le opportunità che emergono sia direttamente che indirettamente dai vostri interventi, da quello tuo e da quello di Sandra, sui rischi che comunque gli educatori digitali devono tenere a mente nell'utilizzo degli strumenti a tutela dei minori, a tutela dell'immagine dei minori di tutto quello che vediamo oggi, educando i minori a saper usare gli strumenti per avere una popolazione futura che, a differenza di quella odierna, non subisca passivamente l'innovazione tecnologica, ma riesca proprio ad essere i gubernator, proprio a governarla, così come voleva Norbert Weiner nel suo fantastico libro L'uso umano degli esseri umani. Anche qui l'informazione geografica con il concetto del digital twin rileva, perché è un concetto che si ripete anche in altri scenari e non solo nell'ambito della informazione geografica. Però, visto che questo tema per noi è molto caro, perché vogliamo appunto trasmetterne l'importanza, passerei la parola alla professoressa Monica Sebillo e chiederle, visto che anche lei svolge un ruolo importante nell'ambito dell'informazione geografica, come si pongono a MFM, GIS Italia e a SITA rispetto al tema e che tipo di contributi possono mettere a disposizione per tutto il panorama degli educatori digitali. Perfetto, grazie. Grazie per questa opportunità per condividere qualche altro input su questo tema, perché effettivamente tutto avviene da qualche parte, quindi alla fine l'informazione geografica ha il suo perché non in maniera ancillare, ma diventa, diciamo così, il core di una serie di significati che assume un tema piuttosto che un altro. E noi con MFM, GIS Italia è un'associazione senza scopo di lucro che si occupa in particolare di informazione geografica e di sistemi informativi geografici, quindi siamo particolarmente un occhio di riguardo a tutto ciò che è la parte dedicata ai sistemi informativi, ai dati, supportiamo iniziative che permettono la, diciamo così, il partenariato tra pubblico, privato, imprese, ma ovviamente un occhio di riguardo anche a discorsi legati alla formazione. Io, per esempio, posso dire che in passato MFM è stato, per esempio, ha realizzato corsi sull'uso di strumenti come QGIS, quindi Open Source, mettendo a disposizione in maniera Open sia materiale, diciamo, di formazione, ma anche esercitazioni, la possibilità di utilizzare e di avere dei docenti a disposizione, così come è stata, per esempio, una sede di certificazione collegata ad AICA. E in particolare mi ricordo l'iniziativa nel periodo pandemico con cui abbiamo messo, diciamo, abbiamo voluto fare anche noi un po' la nostra parte, mettendo a disposizione ulteriore materiale in maniera sempre Open, quindi rifacendo un po' i discorsi che aveva collegato Sandra con le licenze e quant'altro, le Common Creative, mettendo a disposizione materiale, mettendoci a disposizione noi stessi, perché era un'occasione, visto che stavamo a casa, un'occasione per approfondire qualcosa che non fosse legato squisitamente al lavoro inteso come professionalità, ma al lavoro inteso come passione. E quindi anche in quel caso abbiamo dato, diciamo così, un contributo. Poi ho avuto modo di dire anche in altri contesti, diciamo, la formazione che nasce, le competenze che sono all'interno di MFM e Gistitalia, ci hanno consentito, per esempio, di avere un ruolo attivo nella definizione dei profili, delle professionalità non regolamentate, riguardanti in questo caso l'informazione geografica. Quindi un coinvolgimento a pieno titolo in quelle che sono state delle iniziative legate ad un info, quindi lente di normazione. E lì era importante perché questi profili in qualche modo dovevano andare ad incastrarsi in un discorso più ampio dell'ICT, ma nello specifico dovevano, per la prima volta, evidenziare quegli aspetti necessari di professionalità, quei temi che in qualche modo si andassero a coordinare con l'innovazione, con la rivoluzione digitale che stava avvenendo e che quindi desse modo ai professionisti di sapere verso, diciamo così, quale competenza andare per poter completare quella che è, diciamo, il loro iter di formazione. Qui, anche grazie a questo, poi siamo stati coinvolti anche da INAP, l'Istituto, ho scritto l'acronimo perché non me lo ricorderò mai, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, per trasformare questi profili in vere e proprie attività, perché è grazie a questo che poi si possono in qualche modo costruire dei curricula che possono in qualche modo caratterizzare le professionalità e, perché no, avviare anche processi che poi, basati su questi moduli, consentano anche di parlare di certificazione. Quindi andare verso quello che è l'educazione, e la formazione, anche di tipo continuo, per arricchire le professionalità e per, in qualche modo, consentire anche a chi lascia qualcosa un po' più, diciamo così, rispetto ad alcune accezioni anacronistiche verso nuove frontiere e andarci, per esempio, a contaminare con discorsi legati, per esempio, all'intelligenza artificiale che abbiamo sentito citare prima e così via. Rispetto allo schema che ha fatto vedere Sandra, mi piaceva evidenziare uno o due punti. Allora, Asita ovviamente è una federazione di associazioni che si occupano di informazione giocata, quindi oltre a MFM c'è chi si occupa nello specifico di telerilevamento e quindi anche lì, ovviamente, tutto ciò che è legato allo spazio, agli strumenti, ai paradigmi, eccetera. C'è chi si occupa di cartografia e chi si occupa di fotogrammetria, quindi in qualche modo la federazione riassume un po' tutte queste competenze. Quindi anche quando noi facciamo degli eventi, la finalità è, grazie alla contaminazione di tutte queste competenze, la finalità è di dare un quadro, un supporto a tutti quei processi che possono partire. Ricordo con piacere, ne abbiamo parlato poco tempo fa con Sergio, per esempio, un'iniziativa che abbiamo fatto lo scorso anno a Firenze legata nello specifico al ruolo dell'informazione geografica nel programma Copernicus, quindi il programma di osservazione della Terra. E ricordo che nella seduta in cui discutemo poi in questa tavola rotonda, Sergio, ricordami, dimmi se sbaglio, c'era anche un corpo docente interessato in particolar modo a questo tema, proprio perché ovviamente è da lì che nasce l'esigenza di espandere quelle che sono le competenze per poter essere concorrenziari rispetto a quelli che sono gli scenari che si prospettano e gli interessi stessi poi dei fruitori, degli studenti in qualche modo. Quindi in qualche modo riassumere tutto questo. E rispetto allo schema che ha fatto vedere Sandro, io evidenzierei il discorso di risorse digitali, perché ovviamente formare in qualche modo è necessario avere la risorsa che diventa il contenuto di questi contenitori che andiamo a costruire, valorizzare le potenzialità e su questo non ci piove, perché ovviamente la finalità è sempre questa, riuscire a cogliere quello che può essere una passione e farlo diventare anche lavoro da questo punto di vista e poi ovviamente favorire lo sviluppo di queste competenze. Questi sono un po' gli aspetti caratterizzanti che noi in qualche modo supportiamo e motiviamo e cerchiamo di portare avanti anche con le nostre associazioni affinché appunto ci sia poi una ricaduta sul territorio e che, come dire, il territorio deve essere arricchito appunto, quindi in qualche modo formiamo perché poi il territorio, dobbiamo far tornare sul territorio tutte queste, diciamo così, tutte queste potenzialità che diventino effettivamente delle virtù in termini di ritorno sul territorio stesso. Mi fermerei qui. Grazie, grazie Monica. Intervento veramente molto interessante che fa rilevare l'importanza e, scusando il gioco di parole, l'interesse proprio sul tema. Certamente, come abbiamo avuto modo di vedere di sentire in questi eventi, magari la terminologia informazione geografica potrebbe trarre in inganno, ma è un qualcosa che comunque permea la nostra quotidianità ogni giorno e per me questo è veramente importante da rilevare. A questo punto io vi chiederei appunto di dare qualche tips, qualche suggerimento al corpo docenti che oggi si trova sia già in forze ma prossimo ad eventuali nuovi ingressi per, come dire, affrontare queste tematiche non come un qualcosa di mandatorio e quindi fastidioso da dover subire perché qualcuno ha deciso di doverlo impostare, rispettare a monte, quanto piuttosto per far emergere le virtù di questo quadro e le responsabilità che il corpo, diciamo, docente ha nei confronti delle future generazioni. Quindi rinnovo l'invito a Sandra, Sergio e Monica. Allora, certamente non è un vincolo, ma soprattutto per quanto concerne il mondo scuola e anche nel mondo universitario il DigiCompedu viene identificato come un modello di riferimento a cui appunto riferirsi quando bisogna fare aggiornamento delle competenze digitali specifiche per chi svolge il ruolo del docente, del formatore e oggi anche del facilitatore. Quindi è vero che non è vincolante, però è il modello riconosciuto, per cui il mio invito è quello di iniziare con un'attività di autovalutazione, attività di autovalutazione che può essere fatta in maniera indipendente, utilizzando, quindi non necessariamente collegando al contesto lavorativo. Ma proprio per fare un bilancio delle proprie competenze professionali può essere una strategia a cominciare a mettersi alla prova con uno strumento come quello che abbiamo brevemente presentato che è il Selfie for Teachers, dove io non mi trovo davanti una serie di domande, quesiti, non è un quiz, ma è una riflessione guidata e attraverso questa riflessione guidata quello che noi abbiamo teoricamente presentato, quindi la tassonomia di Bloom, i livelli di padronanza, io riesco a comprendere nel concreto che cosa effettivamente, quale sia la relazione e rifletto sulle mie pratiche e da quello posso tenermi aggiornata perché noi, questa è una cosa che sento proprio personalmente, noi siamo tutti professionisti dell'educazione per cui l'aggiornamento è qualcosa che dobbiamo, probabilmente lo dobbiamo prima di tutto noi stessi perché dobbiamo svolgere al meglio il nostro ruolo professionale, noi non ci rivolgeremo mai ad un medico non aggiornato o ad un commercialista non aggiornato, quindi il professionista della formazione, dell'educazione a tutti i livelli, infatti abbiamo fatto riferimento addirittura alla prima infanzia, deve mettersi alla prova perché possa poi garantire un servizio che sia un servizio qualificato. Naturalmente è molto interessante vedere la declinazione specialistica di questi strumenti perché il DigComp Edu dà un'indicazione generale, non fa riferimento a specifici tool e sarebbe interessantissimo se tutti i settori che si occupano di formazione potessero sul modello anche del Selfie for Teachers farci riflettere sull'uso di alcuni strumenti proprio magari legati al settore geografico che io per esempio ho riscoperto da adulta perché la geografia probabilmente e lo studio della geografia e della geografia non solo fisica ma umana io lo trovo molto molto interessante quindi la georeferenziazione quindi ormai è diventato uno studio arricchito non è soltanto una il digitale ha ampliato la possibilità di appassionarsi alla geografia integrandola con tanti altri saperi e conoscenze. Grazie Sandra, Sergio? Io mi aggancio subito perché Sandra ha appena usato il termine sapere ecco io ho imparato in età adulta che la geografia mi hanno detto ma guarda che non è una disciplina è un sapere è un sapere che diciamo copre delle discipline e in effetti se ci pensiamo l'insegnamento della geografia può essere fatto dal punto di vista matematico dal punto di vista fisico dal punto di vista che più ne ha più ne metta e diciamo il nostro paese ha competenze tanto cultura storica rispetto all'argomento e poi competenze rilevanti e allora l'invito come stati generali nell'innovazione è quello di aiutarci insieme a fare ancora più sistema dico ancora più perché già osserviamo che in certi contesti magari diciamo il colpevole è un singolo professore o un gruppo di professori perché poi sono sempre le persone che fanno le cose ma le buone pratiche ci sono e possiamo fare leva su queste buone pratiche diffonderle attraverso la cornice del GgComp edu attraverso tantissime iniziative quindi io sono proprio contento di questa di questa iniziativa che abbiamo abbiamo preparato soprattutto sul pungolo di Valentina e e vorrei appunto lasciare lasciare questo messaggio diamoci tutti una mano per fare in modo che al di là del fatto che la geografia appunto in alcuni contesti venga assegnata con stato abitanti chilometri quadrati che tanto ci hanno annunciato da bambini proprio perché si sono aperti i mondi non solo fisici ma anche virtuali e bisogna usare il plurale e quindi diciamo ci ritroviamo in una situazione con un po' di entusiasmo diciamo di scoperta di nuovi mondi ma anche rischi dei nuovi mondi si possa diciamo prepararci preparare le giovani generazioni diciamo a esplorarli con con consapevolezza uso ancora questo termine grazie 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 Sergio grazie anche per aver specificato che ho sollecitato l'approccio allo sviluppo di questi eventi per come dire trasmettere il verbo io da anni ormai sono posso definirmi un digital evangelist e quindi quando c'è la possibilità colgo l'occasione per cercare di combattere quella frase che sentiamo sempre dire è che ne so io ma mi ci porta l'applicazione oppure fa tutto l'applicazione e via dicendo quindi questo uso passivo dello strumento che tra l'altro fa sì che l'essere umano si trasformi nel tavolo di lavoro per sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale che ne abbiamo parlato tantissimo oggi e quindi piuttosto che essere l'essere umano fa autore del proprio destino diventa cavia da laboratorio mettiamola così quindi chi meglio degli educatori e dei docenti deve essere consapevole e cosciente ci dobbiamo ritenere fortunati che qualcuno ha dato accenno importanza al tema chiamandolo digcomp poteva anche chiamarsi in un altro modo però l'importante almeno è porre l'accento a questo punto passo la parola a Monica per un ultimo intervento sul punto grazie io ho giusto uno slogan a questo punto la contaminazione della geografia con le altre scienze con le altre discipline con gli altri saperi perché è fondamentale perché può aiutare ancora di più a capire effettivamente il ruolo che può avere questo questo sapere poiché ci aiuta in qualche modo a comprendere quello che avviene anche se è sempre lontano da diciamo così da un'area caratterizzazione qualsiasi evento anche se è sempre lontano da una caratterizzazione squisitamente geografica conoscerlo e vedere attraverso diciamo così un prisma che ci fa vedere anche questi aspetti ci aiuta ovviamente a comprendere maggiormente quello che è intorno a noi quindi anche il docente chi fa chi chi forma utilizzare anche tecnologie per aiutare non solo diciamo a stimolare ancora più l'interesse degli studenti coinvolgendo strumenti che possono essere comunque anche quotidiani ma visti sotto un altro aspetto fondamentalmente e soprattutto anche altri altri temi altre discipline per far vedere in effetti che con la geografia si riescono a spiegare degli aspetti che altrimenti li vediamo come tanti silos e non riusciamo a comprenderne la contaminazione che esiste tra questi quindi secondo me questo è un'altra cosa verso cui spingere chi fa formazione e nello specifico in questo contesto qui grazie grazie sì effettivamente la parola chiave è trasversale contaminazione awareness consapevolezza e padronanza nel vero senso della parola e a questo punto parte ringraziarvi io chiedo se il nostro presidente vuol porgere i suoi saluti a chiusura di questi eventi dedicati alle competenze digitali dei cittadini e degli educatori e rinnovo il mio invito a visitare la nostra pagina eventi stati generali dell'innovazione per rivedere gli eventi che abbiamo svolto e iscriversi ai prossimi di questa settimana presidente grazie volentieri grazie ma credo sono veramente un saluto nel senso che sono abbastanza contento che abbiamo fatto mi sembra tre eventi questo è il terzo evento sulle competenze digitali e credo che sia la prima volta nella nostra storia nel senso che le dobbiamo toccare ma non così in dettaglio quindi credo che sia un argomento da riprendere mi viene solo da dire solo una quindi non vi tengo mi viene in mente quello che chi ha partecipato Valentino Cera al primo quando si parlava anche quello con non al primo di Digicom quello con un info in cui in effetti è stato sollevato anche da me ma poi diciamo ribattuto da altri il fatto della differenza tra le competenze professionali e quelle per la popolazione e si parlava allora prendendo un esempio della sanità che abbiamo coniato il termine digital skills for all digital skills for life for all nel senso che non è che uno deve aspettare di avere il covid o di avere qualcosa ma devono imparare tutti a usare queste cose in modo che da quello che sto che oggi ho capito anche nell'informazione geografica che sta pervadendo Sergio Lozani parliamo tanto Monica mi conosce bene è un sacco di tempo che parliamo di come contaminare questo settore della scienza che ormai è diventato pervasivo non ce ne siamo neanche accorti ma ormai come dici tu fa tutto l'applicazione il GPX calcola dice dove stai ti manda le informazioni ecco bisogna proprio passare da un mio avviso da una situazione per silos in cui l'impressione ancora in parte anche questo Monica Lozani abbiamo parlato parecchie volte di comportamenti un po' da scienziati di certi argomenti quando bisogna parlare dell'applicazione trasversale quindi veramente promuovere e sensibilizzare tutto e quindi mi veniva in mente che potremmo fare un'azione presso un info perché come stava detto credo ci fosse solo Valentina quindi gli altri non lo sanno ma di fronte al fatto che io parlavo per la sanità del fatto che ci sono due tipi di competenze uno appunto per i professionisti e se no occupa un info un altro che stiamo cercando di portare avanti è che ancora non è normato in maniera certificato se capisco bene quello per le persone e quindi bisogna unire i due mondi e Mimmo Squillace il presidente di un info ha detto proprio ma voi siete membri di un info ma perché non fate questa proposta di toccare anche questi argomenti io prendo molto volentieri questa quindi lo passo anche a Sergio poi ne parleremo meglio questo stimolo nel senso che pure qui mi sembra che sia uno argomento stiamo parlando di educatori e vabbè quindi non sono certificati professionisti che poi con quella certificazione viene assunto a livello c-trainer dall'azienda però è ugualmente una cosa che se non c'è una certificazione come avete anche detto voi delle competenze acquisite come fa quel docente poi a insegnare bene quindi per ringraziare tutti quanti e Valentina in particolare per il suo punto di accumulazione di una vulcanicità che ammiro molto ecco io vi lascio con questa quindi vi ringrazio tutti quanti per la partecipazione ragioniamo sul fatto di unire i due punti di vista quindi professionisti e diciamo società in modo che si competri meglio non resti questi argomenti diciamo retaggio dei gruppi specializzati spesso anche autoreferenziali ma si aprono al territorio e tutti quanti sappiano quali sono i vantaggi che le competenze in tal senso possono portare scusate se hanno detto che parlo poco e poi mi allungo grazie ancora grazie presidente grazie a tutti sicuramente coglieremo l'occasione per approfondire anche verticalizzando un po' le tematiche delle competenze digitali darei un'ulteriore come dire sollecitazione perché questo confronto sul tema dell'informazione geografica mi ha fatto accendere qualche lampadina immaginiamo anche l'analisi dei dati per le emissioni inquinanti che è fondamentale di fondamentale importanza ed è utilizzata dai comuni per bonificare la circolazione stradale dei grandi centri abitati che possono essere oggetto di forte inquinamento quindi come vediamo si parla di analisi dei dati che sembra un territorio come dire molto è molto neutro ma la applichiamo ovunque quindi sicuramente è importante per il futuro per i ragazzi di domani che i docenti gli educatori digitali siano forti su questo tema riescano anche a comprendere le varie sfumature in termini di propensione all'ingaggio lavorativo dei ragazzi di oggi che saranno i lavoratori del futuro grazie a tutti e a presto per altri eventi sul tema buona serata ciao